Titan è un film del 2021 diretto da Giulia Ducournau. In questo film, che fa parte dei thriller body horror come genere, tutto sommato, abbiamo come protagonista Alexia, una ragazza interpretata in questo film nella sua veste adulta, che è quella principale da Agatha Roussel. Questa ragazza ha avuto un terribile incidente quando era piccola, un incidente in macchina a seguito del quale le è stata impiantata una placca di titanio appunto in testa. Da allora, da questo tragico incidente, la ragazza ha cominciato ad avere comportamenti un po' strani, anche più strani del solito in realtà. Una volta cresciuta, la ragazza è diventata molto poco empatica e con evidenti difficoltà relazionali, soprattutto magari con i genitori, dai quali è molto distante in realtà, sebbene vive sotto lo stesso tetto, e si barcamena facendo la ballerina in un locale, una ballerina dalle movenze particolarmente spinte e sensuali, che occasionalmente, quando ha degli intercorsi sessuali con magari qualche fan o qualche ragazza conosciuta, qualche collega, occasionalmente non si diverte neanche, ma non trova di meglio da fare che ammazzare il diretto, o la diretta interessata, magari con una sorta di spunzone per capelli che usa per tenersi i capelli, che fra l'altro sono caratterizzati dall'avere vicino, qua, tutta la cicatrice legata a questa placca, in titanio così appariscente. È tutto sommato abbastanza una sociopatica, una sicuramente con qualche problemuccio. Una con qualche problemuccio, che addirittura, durante l'ultimo di questa, probabilmente, serie di omicidi, che abbiamo modo di vedere in parte, ma che in realtà chissà da quanto tempo va avanti, improvvisamente, probabilmente, viene braccata. Viene braccata dalle forze dell'ordine, evidentemente una delle sue vittime è sopravvissuto, comunque qualcuna è riuscito a denunciare questa cosa, e quindi lei fugge. Fugge, non prima di aver dato fuoco alla casa, probabilmente uccidendo quindi i genitori, ma per riuscire a scampare un pochettino a questo essere braccato dalle forze dell'ordine, allora la ragazza cosa fa? Lei vede che ci sono delle foto segnaletiche di bambini che nel corso degli anni sono scomparsi e che magari, dopo tanti anni, possono essere cambiati, sono delle ricostruzioni, quelle che vede a un display, se non sbaglio, da una fermata della metropolitana o quel che è, e allora decide di tagliarsi i capelli, sistemarsi, addirittura spaccarsi il naso, per, in qualche modo, camuffarsi, sebbene non utilizzando nessun trucco particolare, ovviamente coprendosi il seno e la misteriosa e neo-arrivata pancia apparentemente da gravidanza, una gravidanza forse dovuta a una macchina, e quindi si finge a qualcun altro. Si finge un tal Adrian che denuncerà evidentemente alle forze dell'ordine di essere appunto quel ragazzo scomparso tanti anni prima, questo porterà il padre del vero Adrian, Vincent, interpretato da Vincent Lindon, ad arrivare al cospetto nella caserma di polizia, quel che è. Qui questo padre evidentemente incapace, forse più razionalmente che altro, di riconoscere, che non sta parlando del figlio, non sta vedendo il figlio, riconosce, senza esame del DNA, in Alexia il figlio Adrian, e quindi comincia ad accoglierlo a casa sua. E comincia la parte, se vogliamo, meno disturbante di questo film, ma più strana. Che dire, questo film è veramente un qualcosa di poco definibile, almeno per quello che sono le mie conoscenze, le mie capacità di espressione per certi versi, perché è un genere che decisamente non è mio, è un genere che poche volte mi è capitato di toccare e di vedere. Ad esempio, con il film precedente, ero una cruda, una cruda, e le verità, sempre della Ducournau. Il film precedente che aveva fatto e che avevo abbastanza apprezzato. Anche quello ha una visione molto suggestiva. È un film, e questo, molto disturbante per certi versi, soprattutto nella prima parte, se vogliamo, perché è quella in cui c'è, dal punto di vista fisico, il maggior tormento, dolore. La capacità di questa regista di mostrarti cose che a pelle proprio ti fanno rizzare i capelli, ti fanno sentire disagio fisico, è qualcosa di allucinante. Basti pensare, ad esempio, al tentativo mal riuscito, e assolutamente infruttuoso di aborto della protagonista, oppure, perché no, anche quella scena sotto la doccia in cui il piercing si incastra nei capelli di lei. Mamma mia, che male. Ma in generale è tutto un film questo qua, che, così come il precedente di questa regista, punta tanto sul far provare un senso di disagio fisico, perché permette allo spettatore di rievocare, oppure di avere un'impressione molto ben precisa di quello che potrebbe essere il dolore provato da quello o quella personaggio in quel determinato momento. Al tempo stesso, però, questo film, a un certo punto, nella suggestione assurda, stiamo parlando di una che rimane incinta per via di un'auto, questa sua ossessione sessuale, che fin da piccola sviluppa per i mezzi a motori, basti pensare, fin da piccola, alla macchina, che probabilmente è stata dove tutto è cominciato, perché no, la sua macchina da grande, successivamente addirittura anche un camion dei pompieri, perché il padre adottivo, fra virgolette, Vincent, è un capo dei pompieri e, di conseguenza, diventerà in qualche modo impiegata nell'ambito dei pompieri anche lei, sotto le forme di Adrian, questa ossessione è qualcosa di stranissimo, una parafilia, una perversione allucinante, che in questo film ha il suo massimo splendore, o anzi, la sua massima oscurità, nel fatto che lei, poco a poco, tende a partorire, appunto, questo fantomatico ibrido uomo-macchina, forse. Chissà, forse questa placca in titania, poco a poco, in qualche modo, in una chiave forse metaforica, che io sinceramente ho difficoltà a cogliere, la trasforma sempre di più in una sorta di macchina lei stessa, addirittura la fa partorire un qualcosa di simile, per certi versi. Stranissimo, questo film è veramente strano. È veramente strano, ma, sebbene abbia difficoltà in qualche modo a etichettarlo, a classificarlo, a comprenderlo appieno, comunque è un qualcosa che mi ha colpito. Mi ha colpito per diversi motivi. Mi ha colpito per l'aspetto più empatico-fisico, se vogliamo, quello soprattutto iniziale, appunto, quando ci sono le parti legate al dolore, che in realtà, andando avanti, comunque un po' si mantengono, anche se non come nella prima parte del film. Mi ha colpito per l'aspetto comunque drammatico e straniante legato al padre, questo uomo distrutto, che sa ma non vuole sapere, in realtà, come sta la situazione, questo uomo che non accetta il fatto di invecchiare, questo uomo che è evidentemente, dal punto di vista emotivo, distrutto da quanto è accaduto dal figlio e non è riuscito realmente ad andare avanti, cosa che invece, la immagino ex moglie, è riuscita a fare maggiormente, di fatto, a un certo punto avremo modo di vedere questa cosa. Al tempo stesso, però, mi hanno colpito tantissimo le interpretazioni dei due principali, ovvero sia Alexia e Vincent, rispettivamente Agatha Rousselle e Vincent Lindon, il secondo legato a questo discorso dell'essere padre tormentato, dell'assenza dei figli e quant'altro, la prima perché si è veramente distrutta per certi versi, ha dato prova di essere un'attrice in grado di orripilarsi e di martoriarsi, quantomeno in scena, spero non nella vita reale, per potersi calare perfettamente dal personaggio, un personaggio assolutamente disturbante e disturbato, un personaggio pieno di problemi, di complessità, sfaccettature, con anche un lato emotivo che a un certo punto, poco a poco, quando lei in qualche modo comincia a sviluppare, in maniera strana e morbosa, un qualche sentimento per il padre adottivo, viene fuori. È un personaggio molto interessante, un personaggio molto interessante, una interpretazione dal punto di vista fisico estremamente suggestiva che fosse anche soltanto per lei, sinceramente mi fa pensare a questo film. Comunque, per quanto mi riguarda, poco comprensibile per certi versi, è un qualcosa che merita di essere visto. E quindi, se volete rimanere parzialmente sconvolti, soprattutto per la prima parte e per l'ultima, ma in generale volete un qualcosa che vi frastorni un pochettino, che sia una visione un pochettino atipica, se non siete veterani di questo genere di film, ve lo consiglio assolutamente Titan. Quindi, in alternativa, se invece siete amanti del body horror, credo che con questo film, molto probabilmente, ci andrete a nozze, quindi già ve lo siete visti. Nel caso in cui non l'abbiate fatto, recuperatevelo.